È forte e motivata l'esasperazione di migliaia e migliaia di persone che da settimana in provincia di Avellino pagano quotidianamente l'emergenza idrica, non soltanto naturalmente dal punto di vista concreto, lavare, lavarsi, fare scorte, rimodulare in più parti la propria giornata. C'è anche un non trascurabile aspetto esistenziale a certi elementi che compongono lo standard della nostra vita, che pensavamo definitivamente conquistati e acquisiti, non sappiamo e non possiamo più rinunciare. Per dire, se smettessero di funzionare i frigoriferi, se la televisione non captasse più il segnale, più che la mancanza di bibite fresche o del film preferito, affiorerebbe quella sottile angoscia che deriva dalla convinzione di essere stati privati della nostra libertà. Ma non è l'antropologia meteo-idrica che mi interessa. Resto invece piuttosto scontrafatto dalla canea per individuare le responsabilità più prossime. Moralisti, perditempo, fancazzisti, con inconsapevolezza pari alla improntitudine, aprono campagne per indicare questa o quella testa da esporre alla ruota del pubblico ludibrio, mettendo in circolo così l'aria viziata della demagogia, delle tre palle cento lire da lanciare nel pollaio della lotta politica. A me invece preme ricordare che quella che fu una delle tante anticipatrici visioni di Fiorentino Sullo, l'Alto Calore, appunto, oggi consegna la più cocente delle sconfitte ad una classe dirigente, soprattutto democristiana, ma che poi sul cammino avrebbe trovato compagni di merende compromissorie, pure ha fatto zotica, capace di rappresentare, guidare, fare sintesi. Questa classe dirigente ha sciupato il tesoro del secondo bacino imbrifero d'Europa, quasi con consapevolezza, per un verso svendendolo, per l'altro spolpandolo, per costruire consenso, potere, carriere, clientele. Fino all'altro ieri fanno testo le scrivanie, un piccolo esercito di generali e colonnelli è andato via via formandosi con annesse privilegiate e buste paga, mentre le truppe sul campo, quelle che armeggiano con le chiavi inglesi, si assottigliavano. Da qui gli appalti esterni, i lavori a trattativa diretta, le doppie società, anche i film celebrativi, anche società comunali costituite da chi gestiva l'alto calore per fare una cinquantina di assunzioni clientelari nel proprio comune e allo stesso tempo non pagare neanche un euro dell'acqua che nel frattempo veniva sfilata all'alto calore. Naturalmente rivangare il passato serve a poco, se non a dare un senso alle ragioni che complicano la nostra esistenza senza acqua. Ma per fortuna si sta cambiando registro e continuando così, e in tempi non brevi certamente, a quella intuizione di Fiorentino Sullo verrà concretamente restituita la sua dignità alla canea. La canea che grida vergogna, vorrei soltanto dire che se ci liberassimo della vergogna ci libereremo anche della menzogna.